Filippo tu sei nato invece a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, che legame hai con la tua città? San John Bridge, Ponte San Giovanni è piuttosto bruttino, è considerato il centro commerciale di Perugia. Perugia, a me piace tantissimo perché è talmente povero che o vai giù di fantasia o ti buchi, a me ne è andata bene perché mi sono drogato con la fantasia, altre cose no. E Perugia era la città del centro, quella grande, che però poi è lì, sono 5 minuti in macchina. Senti, ma a te ti piace parlare nel dialetto del tuo paese? Ma due anni tantissimo perché non balbetto, quando parlo nel dialetto perugino balbetto molti di meno. E ho trovato che se cucca tantissimo al bar, o una birra cocca, e fa subito sangue. Ah, questa è cocca? No, è la D dura. La D, non abbiamo la D, scusi, D, dunca, nel nostro dialetto è il dunca, dunca col D. Ad, D, D, Dado, Dado, Domo Doro. Dado, Domo Doro. SX. Fra l'indiale e i siciliani. E io lo riacquisto, la D riacquisto, arrivando da Roma a Ponte San Giovanni. E io lo riacquisto, arrivando da Roma a Ponte San Giovanni. E io lo riacquisto, arrivando da Roma a Ponte San Giovanni.